All'ombra dell'autogrill nell'area di servizio Scaliggio Raest una vera e propria carovana per sensibilizzare sulla sicurezza stradale. Se è sicuro la campagna nazionale della polizia oggi tocca anche Verona, un'iniziativa che si inserisce nell'ambito delle attività di prevenzione per la diffusione della cultura della legalità in collaborazione con la società Autostrade per l'Italia. In Veneto i punti interessati dal tour sono due, uno nel veronese e l'altro nel padovano. Le aree in totale 19 sono state scelte perché snodi importanti per i maggiori flussi di traffico molto battuti soprattutto durante l'estate. Il progetto si sviluppa infatti lungo la A1, la A14 e la A4. Dentro il pullman azzurro della polizia di Stato e dentro il camper di Autostrade per l'Italia, adulti e bambini potranno compilare un quiz digitale sulla guida sicura ricevendo in dono un etilometro e una borraccia termica. E poi ancora materiale informativo per corse anche ludici per ricordare gli effetti dell'alcol sulla guida. L'uso non corretto del telefono, l'eccesso di velocità e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, tutti i comportamenti scorretti e pericolosi che secondo le più recenti statistiche sono le principali cause di incidenti. È stato un periodo nero per Verona ma non solo per Verona, noi stiamo lavorando molto anche col servizio polizia stradale perché gli scenari, basta guardare le cronache di questi giorni, sono un continuo bollettino di guerra. E in questi bollettini di guerra quasi sempre la responsabilità di chi guida è devastante. Abbiamo soggetti in stato di ebrezza sotto l'effetto di stupefacenti che corrono troppo, che si fanno i selfie. 20-30 km in più di velocità non ci fanno arrivare granché prima ma sicuramente possono fare la differenza in caso di incidenti. Grazie a tutti.